La Cuella era una famosa strega che c'era a sua sale. Un giorno un giovane del paese è passato vicino ma aveva fretta e non l'ha salutata, non ha fatto i soliti convenevoli che ci volevano. Tornato a casa lui aveva un bel vitello nella stalla, arriva lì lo sente che muggiva, stava male, sembrava che dovesse morire. Quando arriva vicino alla casa fa, oh mamma, non ho salutato la Cuella. Va di sopra dove c'è il camino del fuoco, prende la catena, la catena d'alfeure dove si appendono i pentoloni, la butta nel cortile, dopodiché comincia a picchiare su questa catena. Il vitello dopo un po' si tranquillizza e non sembra più che voglia morire. Il giorno dopo passando in paese cosa vede? La Cuella tutta massacrata con bolli, bitorzoli. Lo guarda e gli fa non c'era bisogno che mi facevi tutto questo, bastava che me lo chiedessi. Da queste parti c'erano parecchie streghe. Ce n'è un'altra di queste streghe, però è più di villa che di sale perché la coaglia era di sale. Ma lei nota che era la moglie del ciabattino detta anche la bagatta, perché bagatta nelle carte dei tarocchi è il ciabattino. C'era un signore che faceva i cestini qui in paese, nella strada che va verso Cintano, perché qui c'è una vecchia stradina che andava in là, c'era una cascina e questo qui faceva i cestini. La madre notta passa di lì e cosa fa? Gli chiede un cestino. Quel signore di cestini quel giorno non ne aveva neanche uno. Me lo devi dare, perché non me lo dai? Lui fa io non ce l'ho. Madre notta se ne va. Ma di un momento la bambina di questo signore che faceva i cestini con i vimini si è messa a gridare e stava male. Insomma, quello lì ha dovuto mettersi lì, fare un cestino e poi la bambina quando è tornata a casa stava di nuovo bene.